bene ci siamo dopo un bel po di tempo siamo pronti ancora con le dirette o almeno con questa diretta che stasera vi faccio con questo titolo molto particolare che è l'emergenza infinita alterare i dati senza cambiarli quindi questa emergenza è costruita in maniera molto interessante ma anche molto scioccante semplicemente prendendo dei dati senza né alterarli né fare niente farli diventare dati terribili quando non lo sono in effetti a parte il caso briatore il caso delle cinque persone in puglia affette da covid di cui non si sapeva nulla il bambino grave per covid quando invece era affetto da tutt'altra cosa ed era solo positivo al tampone a parte queste bassezze la cosa a questo punto importante è cominciare a tener presente una cosa che i dati che vengono dati sono corretti non sono sbagliati e sbagliati su due parametri il primo parametro su cui sono sbagliati che viene dato l'assoluto invece che è relativo il secondo parametro terribile è che vengono considerati malati i non malati è come se in qualche modo una persona sana venisse giudicata per qualche motivo malata allora direi di cominciare la nostra chiacchierata che ci porterà a capire molte cose diciamo che cominciamo con un esempio molto semplice supponiamo che ci sia un numero molto molto grande di biglie in cui ogni 10 biglie bianche c'è una biglia nera direi che su questo va molto bene ogni 10 biglie bianche c'è una biglia vera noi sappiamo che per i grandi numeri probabilità e statistica si avvicina cosa intendo con questo con probabilità e statistica si avvicinano intendo molto semplicemente e molto banalmente che quando c'è una probabilità p che avvenga un evento quando tu hai un numero molto grande di prove che è n il numero di eventi favorevoli sarà n per p facciamo un esempio un evento una probabilità su mille di avvenire se noi facciamo un milione di prove il numero di volte in in cui verrà l'evento favorevole è mille ancora più in dettaglio se noi supponiamo di lanciare una moneta se noi la lanciamo cinque volte noi sappiamo che la probabilità di fare test ad esempio il 50% se la lanciamo cinque volte potremmo ottenere cinque teste ma se la lanciamo 50 mila volte otterremo un numero di teste molto vicino o vicinissimo 25 mila quindi sulla legge dei grandi numeri probabilità e statistica coincidono ora è il caso di continuare un pochino quindi tornando a bomba al nostro problema se noi abbiamo una probabilità su 10 di ottenere una pallina nera perché ce ne sono di una nera su ogni 10 se noi estraiamo 2000 palline verosimilmente ne avremo 200 nere ma se ne estraiamo invece che 2000 10.000 ne avremo mille nere allora se uno considera solo il dato relativo e non assoluto o meglio ancora lo considera il dato relativo come assoluto potrebbe dire estraendo un certo numero di viglie vedendo che nella prima estrazione ne abbiamo 200 nere nella seconda mille nere o sono aumentate 30 nere se poi la volta dopo ne estraiamo 50 mila e ne avremo 5000 di nere clamoroso e vertiginoso aumento di biglie nere in realtà non sta aumentando un bel niente quello che sta succedendo è che è stato aumentato il numero di test benissimo intanto ciao sasha e grazie di essere qui e grazie a tutti quelli che mi stanno vedendo allora torniamo al discorso di prima abbiamo visto le biglie nere che sono aumentate molto potremmo dire clamoroso quante biglie nere ci sono in più tantissime biglie nere in più mamma mia quindi vuol dire che ne fanno di più no semplicemente abbiamo estratto più biglie in totale statisticamente abbiamo più biglie nere questo è il giochetto che viene fatto per fare aumentare i contagi perché viene detto quanti nuovi positivi ci sono al giorno ma non viene detto quanti nuovi positivi per numero di test allora noi sappiamo che le probabilità di avere un positivo sono circa 1 su 100 supponendo magari siano qualcosa di più facciamo finta che siano 1 su 100 come credo siano se noi facciamo in un giorno 100.000 test quanti positivi avremo i test sono i tamponi per le povere mille nuovi positivi se ne facciamo solo 20.000 ne avremo 200 ma se ne aumentiamo e ne faremo 200.000 ne avremo 2000 ecco come aumentano i contagi aumentano il numero di test posso dirvi che in alcuni fanno turni fanno turni fanno turni massacranti per fare tanti tamponi e così aumentano i test ovviamente in questo modo avrete anche capito come si creano i focolai trovano un positivo facendo test i positivi aumentano in un gruppo isolano tutto il gruppo ecco il focolai non esistono sono finti semplicemente si ottengono in questo modo isolando tutto il gruppo e questi sono i focolai un positivo isoli tutti i suoi amici e quello è un nuovo focolaio ovviamente i positivi salgono perché si fanno più tamponi ed ecco l'aumento dei contagi quindi i dati che danno sono corretti soltanto non dicono quanti positivi su numero di test ma solo quanti positivi è come se straendo più biglie nere e trovando più biglie nere dicessimo sono aumentate vertiginosamente le biglie nere ecco tutto per il momento quindi l'aumento dei contagi abbiamo visto che è una bufala perché dipende unicamente dall'aumento dei test anzi statisticamente sembra che la percentuale di positivi sul numero di test sia addirittura scesa ecco credo che questo sia molto importante quindi ricordatevi quando troverete aumento dei contagi non è vero e chiedete sempre quanti test sono stati fatti quindi il dato non è sbagliato ma deve essere dato il dato relativo e non il dato assoluto vi ripeto in questo momento stanno facendo tantissimi test sembra che lo scopo sia quello di fare salire i positivi tutto si fanno salire i positivi ogni tanto si blocca però poi noi andiamo avanti benissimo passo 1 passo 2 cosa sono i positivi ho visto poco fa una cosa importante adesso i positivi sono i contagi una volta i positivi quando non avevano sintomi come diceva anche l'amica emilia urson fuso e ricordava non chiamiamoli asintomatici ma portatori sani perché la parola asintomatico comunque richiama la malattia ricordiamoci che ci sono dei malati asintomatici molte delle malattie peggiori all'inizio sono asintomatiche per esempio un diabetico può essere totalmente asintomatico facciamo un esempio io avevo conosciuto una persona diabetica non aveva sintomi ha provato per caso la glicemia e gli hanno trovato 337 invece che 100 e lui non aveva sintomi però era malato ancora il cancro nelle prime fasi non dà sintomi però uno il cancro ce l'ha perché ci sono dei parametri alterati c'è qualcosa che non va il portatore sano invece non ha niente che non va è completamente sano non ha nessun parametro alterato a parte la positività quindi vuol dire che una persona completamente sana che porta dentro di sé un virus porta dentro di sé un virus dicevo o anche un battere credo che questo sia molto importante allora io vi dico una cosa che forse potrebbe sconvolgere qualcuno molte persone se dovessero fare anzi tutti noi se dovessimo fare tutti i test possibili risulteremmo positivi a tantissime malattie perché i virus sono da sempre dentro di noi quindi dal momento in cui noi dovessimo fare tutti i test possibili su molte malattie anche solo virali risulteremmo positivi a moltissime quindi portatori sani a tantissime malattie se uno non fa il tampone del covid 19 o meglio dire del del SARS-CoV-2 perché il covid 19 indica la malattia uno non saprebbe mai non saprebbe mai di essere positivo mi sono fermato perché si è bloccato quindi dal momento in cui una persona fa il tampone e risulta positivo è comunque sano non ha nessun parametro alterato c'è solo quel parametro porta dentro di sé un virus ma è sano quindi statisticamente almeno il 99 per cento delle persone che fanno il tampone sono sane quello che fa invece il sistema fa passare queste persone per malate mentre sono persone completamente sane allora come fa terrorismo psicologico il sistema quindi quindi fa come prima cosa fa passare un dato relativo come dato assoluto cioè ti dice ci sono stati un certo numero di nuovi positivi che poi chiama contagi per spaventare ancora di più e allora cos'è che a un certo punto bisogna fare fa passare quindi queste persone come nuovi contagi facciamo un esempio oggi ci sono 800 nuovi contagi il virus corre nuovi contagi fino a mille ma non ti dicono che sono stati fatti per ottenere mille contagi 100.000 tamponi mentre il giorno prima ne hanno fatto quindi non è cambiato niente nulla è cambiato semplicemente sono aumentati i numeri dei tamponi la seconda cosa importante tutti quelli che chiamano contagio quasi sono portatori sani quindi si sta colpevolizzando e criminalizzando la gente sana c'è chi diceva una cosa importante durante il lockdown si criminalizzavano i runner che avevano una sola responsabilità quella di voler rimanere in forma perché ricordiamo chiudere le persone in casa è un crimine è anticostituzionale, illegittimo il comitato tecnico scientifico seppur discutibile non l'ha mai consigliato è stata una decisione del governo e in particolare di Conte perché era un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quindi di una persona sola in questo momento quello che è successo in ogni momento era assolutamente incostituzionale e illegittimo il lockdown chiudere le persone in casa è un crimine e i runner venivano colpevolizzati perché volevano mantenersi in forma seconda cosa ora invece viene criminalizzato il portatore sano ancora una volta si criminalizzano i sani è come qualcuno diceva chiudere in casa una persona in quarantena quando è sano nella maggior parte dei casi è un sequestro di persona non si fa i sani sono sani e basta la loro probabilità di contagiare è minima forse è possibile che passino il virus nel senso che facciano diventare un altro portatore sano giudico molto improbabile che passino la malattia o Dio nella meccanica quantistica si dice che tutto può succedere l'effetto tunnel è un esempio non c'è l'impossibile ma c'è il fortemente improbabile quindi ancora una volta si criminalizzano delle persone e come dicevo prima appena si trova un positivo si isolano tutti quelli vicino a lui e immediatamente si è costruito un nuovo focolaio e i giornali urleranno nuovi focolai attenzione pericolo il virus corre non sta correndo certo qualcosa sta correndo qualcosa che vorrebbe togliere chi in questo momento governa in maniera del tutto illegittima perché il loro comportamento ha illegittimato la loro presenza lì sta correndo per togliergli le poltrone di dosso e siccome questi si attaccano alle poltrone come bostick si sono inventati una proroga dell'emergenza che come dicevo non solo io è un atto eversivo e in questo modo anche tutti i dpcm di è un atto eversivo l'ordinanza del ministro speranza che obbligherebbe le persone dalle 18 alle 6 in certe circostanze di mettersi a mettersi la mascherina ma va però sono tutti atti eversivi perché sono frutto di uno stato d'emergenza che è un atto eversivo quindi a questo punto tutto questo è totalmente illegittimo quindi riepilogando i positivi non e sì i positivi sono cresciuti perché sono cresciuti i tamponi i portatori sani non sono malati perché come diceva in un video Enzo Pennetta avremo una cosa molto divertente uno simoro avremmo praticamente avremmo detto cosa sono i portatori sani malati e adesso concludo perché è un'emergenza infinita perché di fatto con questi giochetti con questa duplicità del tutto inventata in mezzo cosa ci sta in mezzo ci sta una cosa molto importante che dà la richiesta perché sia finita l'emergenza il famoso indice R0 cosa vuol dire sostanzialmente zero contagi quindi l'emergenza sarà finita quando ci saranno zero contagi punto di domanda ma questo è possibile no come ricordava Enzo Pennetta il virus circola 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 va in giro e circolando crea nuovi potenti quindi quando vuoi che una cosa non si realizzi mai metti un obiettivo irrealizzabile a livello individuale può essere interessante perché tu metti un obiettivo altissimo perché la persona possa essere spinta a far sempre di più un saltatore in alto salta a due metri e trenta tanto per dire uno molto bravo a questo punto dopo che si sarà beato per questo risultato vorrà arrivare a due trentatré due trentacinque bene allora nel punto di vista umano altissimo altissimo funziona molto bene perché funziona molto bene ciao Elena grazie di essere qui allora a parte questo perché funziona molto bene perché spinge la persona a fare sempre di più ma a livello social a livello di chiusura di un'epidemia una cosa del genere è semplicemente terribile perché ci si pone un obiettivo per non finirla mai perché come abbiamo visto non si chiede che non ci siano più ad esempio sintomatici ma che non ci siano più nuovi positivi il virus circola e questo non capiterà mai quindi lo scopo è non chiudere mai questa emergenza come diceva anche Diego Fusaro una dittatura sanitaria infinita a io io cosa vuol dire a io io che quando il sistema fa i trucchetti che vi ho fatto vedere prima che vi ho detto prima è molto facile a questo punto alterare i dati facendo tanti 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 tamponi quindi tanti test per far vedere che i contagi sono tantissimi facciamo un esempio decidessero di fare 200.000 tamponi in un giorno ci sarebbero verosimilmente 2.000 circa nuovi positivi quindi urlerebbero tanti positivi e avrebbero la scusa per attuare nuove restrizioni o addirittura un lockdown ricordiamo che nello stato del Victoria in Australia per la cronaca quello di Melbourne c'erano in terapia intensiva una cinquantina di persone su tutta l'Australia a questo punto è stato però sufficiente per dichiarare un lockdown addirittura sei settimane di lockdown dove alle persone è concesso di uscire un'ora al giorno ma ci rendiamo conto e non è finita la polizia può entrare in ogni momento nelle case senza nessun mandato per controllare se una persona è in casa c'è stato qualche tentativo di ribellione gente che non voleva mostrare i documenti ed era in macchina gli hanno spaccato il finestrino quindi la violenza dei regimi contro la democrazia in Australia è successo era successo in Serbia ma hanno assaltato il Parlamento e questo è stato sospeso quindi per un regime non ci vuole niente nell'aumentare il numero dei test lo stanno già facendo per fare apparire tanti positivi e mettere restrizioni per esempio già la chiusura delle regioni a questo punto cosa fare? intanto sappiamo la verità come diceva il maestro spirituale Osho non si combatte l'oscurità basta accendere la luce quindi la luce dell'ignoranza il buio del terrore e dell'ignoranza che comunque sono molto vicini in questo caso si combatte con la luce della basta fare brillare la luce della conoscenza per fare splendere la luce della conoscenza dissipando l'ignoranza quindi diffondiamo verità voi che mi state guardando adesso sapete la verità se voi sapete chi ha visto il video della mia amica Emilia Urson Fuso sa la verità quindi a questo punto la verità è importante se voi se voi sapete la verità quando vedrete i dati della stampa di regime sorriderete diffondete la verità e eliminate la paura al limite come diceva Margherita Hach la disobbedienza civile è necessaria quando è in pericolo la democrazia e come diceva anche il giudice Emilio Manganiello la differenza tra una dittatura e una democrazia è avere nelle democrazie una costituzione a cui appellarsi ricordando che quindi se una norma viola la costituzione si può disattendere allo stesso modo diceva addirittura il magistrato Angelo Giorgianni che le stesse forze dell'ordine possono disapplicare una norma illegittima se una norma è frutto di un'eversione ed è incostituzionale credo proprio almeno per quanto mi riguarda io la disattendo poi ognuno faccia quello che vuole ma per quanto mi riguarda io la disattendo la ignoro come dicevo dovessero imporre la chiusura delle regioni io vi farò un bel video da Novara io abito in Lombardia e vi farò un bel video dal Piemonte e lo farò in diretta il video dal Piemonte e sarà bello che mi seguiate quindi ormai voi la verità l'avete saputa l'avete capita lo scopo è che adesso quando vi diranno aumento vertiginoso dei contagi rispondete con un sorriso ma va là e diffondete la verità in modo che la gente la conosca poi ci sono quelli che chiamano i covidiotti ma quelli sono perduti non diffondete come si suol dire non datele perle ai porci diamo ai porci le ghiande al limite voi diffondete la verità ma chi non non vi ascolta sorridete ormai sono perduti se la gente crede in maniera pedissequa a tutto quello che il governo dice a tutto quello che i media ufficiale dicono come dei robot mascherati voi sapete la verità e portate avanti la verità ormai la conoscete allora da Sergio da Magenta un caro saluto nella sera che ormai è notte che stava quasi notte che avanza verso un nuovo giorno verso il mese di settembre sempre più vicino che auspico davvero sarà un mese di grande ripresa mentale per tutti noi un mese in cui non dovremo più permettere che siano violate le nostre libertà fondamentali e che vengano violati i nostri diritti costituzionali libertà e democrazia sempre e comunque vi voglio bene ragazzi tenete alti cuori che la verità vince sempre per abbattere la menzogna basta fare brillare la luce della verità grazie a tutti di essere qui buona serata vi voglio bene e mi raccomando in alto i cuori e democrazia e libertà sempre e comunque a presto dal vostro Sergio grazie a tutti